Dove andiamo, Cal? Imposto la rotta per... Aspetta, vuoi andare su Dado, Mir? Cordova è andato lì. Avrà avuto le sue ragioni. Rimarrò sulla Mantis una volta arrivati. Sì, la luce rossa del sole non giova alla pelle. Era la casa delle sorelle della notte. Una setta di indirizzabili della forza. Usavano la forza, come i geni! No, queste streghe servivano solo se stesse. I loro poteri si basavano su inganni, illusioni e manipolazioni. Come qualcuno di mia conoscenza. Nelle guerre dei cloni, un signore dei Sith tradì il patto stipulato con loro. Alla fine, un massacro ne annientò quasi tutti. Dato Mir a un pianeta mortale. Siamo a te. Non dirmelo due volte. Cal, fa attenzione qui. Questo luogo è molto pericoloso. Posso affrontare qualsiasi cosa? Lo so, Cal. Non a caso BD1 ti ha affidato le informazioni di Cordova. È una fortuna averti. Salve ragazzi, bentornati nel mio canale. Io sono Marcus Fenix. E come sempre siamo qui su Jedi Fallen Order. Ragazzi, oggi siamo su Datomir. Che diavolo è effettivamente quella cosa? Abbiamo appena iniziato e già facciamo la conoscenza con strani esseri. Incredibile. Dicevo, siamo su Datomir. Pianeta molto pericoloso. E infatti, qui abbiamo il primo esempio. Ehi! Non scherza per niente questo. Ok. È un avversario che non sta fermo mai. Quindi è molto molto pericoloso. Guardate, anche qui come in Sekiro possiamo perdere la postura che in questo caso è praticamente la resistenza. E di conseguenza Cal non sarà capace di difendersi dai colpi che gli vengono inferti. Bene. Una volta che praticamente lo abbiamo sconfitto è capace di darci un ulteriore colpo. Abbiamo iniziato col botto, signori. Nidak difenditi dai suoi attacchi. aggressivi e irrefrenabili. Può essere stordito facilmente da ripetute parate. Abbastanza pericoloso, direi. Non è stato facile abbattere quell'avversario. Oh, e tu chi sei? E siamo solo all'inizio di Datomir, signori. Chissà cos'altro ci attenderà. Vediamo cos'è questo ragno schifoso. Sto subendo ancora danni. Quindi ha un acido velenoso. Ben fatto. Dovrebbe essere abbastanza pericoloso come avversario. Vediamo. Ragno dal dorso velenoso. Ecco, ora abbiamo capito perché abbiamo perso salute. Quel liquido verde è tossico. Perciò dobbiamo stargli alla larga. Ok, ragazzi. Vediamo un pochettino dove dobbiamo andare adesso. Cosa c'è BD1? Flora e fauna. Idratis. Cresce in zone asciutte e rocciose. I suoi filamenti filtrano l'aria. Ora guarda. Va bene. Andiamo avanti. No, adesso non ci fermiamo ancora. Un attacco alle spalle. Ok. Dobbiamo stare attenti perché questi ragni probabilmente attaccheranno tutti quanti in questa maniera. eccone un altro qua sopra. Speravo di non farmi colpire ma è molto più veloce di quanto pensassi. E a quanto pare qui ci sono anche i suoi amici. Bene. Ok, ragazzi. Adesso cerchiamo un modo per proseguire. Non è così semplice orientarsi in questo posto. Dato che intorno a me ci sono solo rocce e di conseguenza non è così semplice orientarsi. Perciò datemi un attimo che cerchiamo una strada per poter proseguire. Ok, facciamo questo benedetto controllo qui. Bozzoli funebri. I bozzoli funebri erano parte integrante dei rituali funebri delle sorelle della notte. Va bene, ragazzi. Questa è ulteriore conoscenza del mondo di Star Wars. Un'altra cosa che mi sta piacendo molto è questa grande biblioteca che è contenuta all'interno di questo gioco. veramente utile ai fini della conoscenza di questo fantastico mondo. Ok, qui abbiamo un altro amichetto con chi fare la conoscenza. Anche se questa durerà per poco. Bene, signori. Possiamo proseguire. Allora noi siamo giunti qui su Datomir perché anche qui Cordov è venuto e ha visto tracce degli Zeffo. Nell'ultimo gameplay abbiamo fatto una visita a queste tombe sopra al pianeta Zeffo e abbiamo scoperto come destinazione Datomir e anche Kashyyyk. Siamo giunti qui su Datomir per controllare se c'è un'eventuale tomba Zeffo ed eventualmente eventuali pittogrammi qualcosa che ci ricordi gli Zeffo appunto. Siamo giunti in questo luogo dopo innumerevoli sfide all'interno del Tempio Zeffo e dopo aver affrontato una TST non tanto simpatico nell'ultimo gameplay. Spero che qui troveremo ulteriori disposte e magari qualche nuovo potere della forza il che non guasterebbe. Vedremo cosa ci aspetta su questo pianeta perciò proseguiamo e vediamo quali difficoltà incontreremo sul nostro cammino. Nel frattempo sto facendo una simpatica discussione con questi ragni che sinceramente iniziano a essere un po' pesanti. Sono molto difficili da eliminare perché non è così semplice starvi vicino con quello stupidissimo liquido venenoso che continuano a tirare. Perciò dobbiamo iniziare a utilizzare un pacchettino l'ingegno prima che li uccidano. Conviene usare solo la spinta della forza per buttarli il più lontano possibile. Appunto come vedete ragazzi la spinta della forza è un urto come dicevo nello scorso gameplay e non è utile solo a spingere via i nemici ma fa anche dei danni ok abbiamo sbloccato una scorciatoia perfetto finalmente abbiamo trovato una via stavo facendo il giro intorno vediamo cosa c'è scritto qui bravo i fratelli della notte effigie lugubre mmm ufficie lugubre non mi piace vediamo cosa accadrà qui dentro di zeffo sono stati qui strano questo posto sembra abbandonato ma hai sconfinato jedi sei una sorella della notte credevo foste tutte morte non tutte datomir è proibito per voi vattene subito temo di non poterlo fare ma forse potremmo aiutarci a vicenda vedi calma non sono tuo nemico le tue azioni dicono un attimo aspetta non sono qui brutta situazione signori ok nuovo nemico nuovi problemi aia non gli resta molto sanno fare anche loro delle capriole perciò sono molto molto abili anche loro a combattere vediamo esattamente contro chi stiamo combattendo perfetto guerriero dei fratelli della notte abile e agile si consiglia una forte difesa e un'attenta valutazione prima di attaccare schiva i loro attacchi aerei non bloccabili bene sono delle belle creature belle per così dire diciamo diciamo più che altro sono molto pericolose allora qui vediamo un po' se possiamo andare la porta è chiusa quindi da qui non possiamo proseguire perciò come il gioco ci fa notare dobbiamo prendere la strada più brutta ok salviamo allora vediamo un po' che succede qua sopra ah pure gli arcieri ci sono qui non hai dei veri poteri ma no oh ma che gli succede bene ragazzi i bug arricchiscono il gioco allora togliamo di mezzo sti arcieri che rompono molto le scatole oh ma che lancia le onde energetiche ok ragazzi questi si stanno difendere molto bene ok prima di tutto leviamo di mezzo quell'arciere che mi sta facendo molto innervosire oh guarda un po' se cade di sotto ma la smetti a tirare frecce ok adesso non ci darà più fastidio andiamo a togliere di mezzo quest'altro lotta 1v1 vediamo chi vince ok vediamo che c'è qui bastardo alle spalle la tua morte è vicina non lo sai che sei un bigliacchio bezzata da parola aspetta non temporeggiare ok abbiamo tolto di mezzo questo pezzente adesso vediamo un po' quali altri furbetti ci sono qua sopra io mi starei zitto fossi te le stai a prendere sbagliato ok ok oramai gli arcieri abbiamo compreso che pattern hanno ah pure tu sei un altro di quella stessa si uspe però non mai fregare pagherai per i peccati dei geni comunque hanno una resistenza assurda ok togliamo di mezzo questi arcieri e saliamo probabilmente attraverso questa specie di ramo ho saltato troppo presto perfetto eccoci qua perfetto allora finalmente siamo giunti sulla cima di questo posto adesso dove si va vediamo un po' qui ma aspettate questo posto mi sembra familiare ma porca miseria ragazzi mi sono buttato nuovamente di sotto ma che diavolo non me ne sono reso conto ok la cazzata è fatta oramai non possiamo fare altro che salire nuovamente ok allora facciamo così adesso adesso vado a salvare così ricarico i mediti intanto e noi ci vediamo su sopra però prima vediamo qualche potenziamento ok vediamo un po' fendente fulmineo meglio forse l'armonia e l'armonia superiore con la forza bene forza massima aumentata e adesso a fondo ritardato questa mossa mi piace come vedete colpisce in una bella maniera ci vediamo sopra ok ragazzi siamo arrivati nuovamente qui ora ovviamente proseguiremo questa strada prima non l'avevo vista per niente guardate giù sotto qui c'è vediamo se possiamo fargli una sorpresina boom ok vediamo cosa c'è qui dentro torna qui bd1 hai trovato qualcosa nuovo interruttore per spada laser ottenuto bene come vi ho detto non vi faccio vedere tutte le modifiche che faccio alla light saber perché non lo ritengo necessario alla fin fine i componenti che riusciamo a trovare non hanno un miglioramento della spada laser perché questi componenti servono solo a motivo di abbellimento di quest'ultima assolutamente non ci sono potenziamenti sulla spada laser bene vediamo qui dove possiamo proseguire compagno girovago vedo che hai incontrato la sorella della notte ma al contrario degli altri sei vivo una spada laser no non nasconderla questo spiega perché sei vivo tu chi sei? non devi aver paura di me no sono solo un viaggiatore che studia la natura delle culture estinte dei filosofi morti studi le sorelle della notte ho studiato molte cose ma sì anche la sorella della notte era una bambina quando la guerra giunse fin qui le è toccato veder morire la sua famiglia cosa sai di queste rovine? non puoi immaginare quanto siano antiche la sorella della notte e la sua stirpe furono sedotte dal potere che si cela lì dentro evita le rovine o subisci lo stesso fatto allora ragazzi noi qui non possiamo proseguire come sai della sorella della notte? in conseguenza adesso io visto che se non ho un'attrezzatura perché almeno mi sembra di aver capito così non possiamo andare oltre farò un brutto taglio come si suol dire e andremo avanti non posso saltare così alto appunto lontano sì perciò ci vediamo direttamente su Kashyyyk signori oh ditemi che non forzeremo quel blocco soltanto se non ci resta altra scelta il transponder della mantisora trasmette segnali imperiali e i grise alimentazione al minimo e non strafare come sobracca che sarà mai se mi serve il tuo aiuto te lo chiedo e ora tieni gli occhi sullo scanner ce la fai? sì bene io non vedo niente stanno cercando qualcosa in superficie via libera cos'è successo? l'impero sta divorando le risorse naturali di Kashyyyk i wuki sono stati schiavizzati o esiliati ci è mancato poco ragazzo non dovevi tenere d'occhio i monitor guerriglieri i wuki e gli stranieri tendono in boscata a un convoglio imperiale hanno dei camminatori in arrivo forse Tarful è con loro Tarful potrebbe essere dovunque anche morto e sepolto che è la fine che faremo anche noi se ci infiliamo in mezzo alla battaglia non ci rimangono altre opzioni e moriranno se non li aiutiamo che cosa ha in mente? sabotaggio su Bracca demolivo camminatori ne dirotterò uno ma sentilo il ragazzo si crede ancora nelle guerre dei cloni capitano avviciniamoci ai camminatori che cosa? sta a sentire quei camminatori servono anche da trasporto truppe quando entri fai molta attenzione ed ecco che entra in scena Gris il mitico ehi fammi un favore cerca di sopravvivere lo aggiungerò al piano se hai deciso di saltare fallo adesso ragazzo pronto a nuotare BD? sì 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 Sei pronto? Benvenuti su Kashyyyk, signori! Gli siamo fatti un bel tuffo in acqua, ora dobbiamo raggiungere uno di questi camminatori e salirci sul dorso, per entrarne all'interno. Ok, non credo che mi vedano, sono di spalle a loro. Bene, vediamo un pochettino come, soprattutto, salirci sopra uno di questi cosi. No, ragazzi, non ci credo. Bellissimo, possiamo salirci a mo' di Assassin's Creed, qui. Chissà come si entra. Sì, prova con la zampa. Fantastico, fantastico. Top, sto gioco, ragazzi, è bellissimo. Bene, e adesso? Con questi laser che arrivano sopra alla carcassa del camminatore il gioco simula anche la difficoltà, il pericolo di salire sopra a uno di questi cosi. Saliamo in cima! Ok, siamo arrivati. Perfetto, campo libero. Ok, siamo riusciti ad entrare. Ora dove si va? Vediamo. Hmm, non fucile nulla. Ah, ecco. Perfetto. Sorpresa, gente! Ehi, avanti a fare a me! Qualcun altro ha lo attacchi! Te ne deve essere sempre uno che fa resistenza. Ok. Rilevo una nave sugli scanner. Hanno più potenza di fuoco del previsto. Com'è la corazza? Gravemente danneggiata. Integrità al 70% e in calo. Dovrebbe comunque bastare per schiacciar... Ah? Ah! Non posso credere che abbia funzionato. Va bene, rallenta. Rapporto, cosa succede laggiù? Stai violando il protocollo imperiale... Poi fa' far zitto quantissimo. Bene. Ok, ragazzi, abbiamo il controllo del camminatore. Perfetto. Allora, quelli sono i blaster? Togliamo di mezzo sto coso. Quello controlla i cannoni. Ci serviranno. Problema risolto. Bene. Ok, ragazzi. Fantastico. Stiamo guidando un ammasso di ferraglia che distrugge molto. Oh, e tu chi sei? E tu chi sei? Esatto. Qualcuno che appena rimediato una tia la domanda. E tu chi sei? Uno che farà impazzire l'impero. Avanziamo verso quella piattaforma imperiale. Un aiuto fa comodo. Ricevuto. Facciamo gli arrabbiati. Come fai a reggerti senza cadere? Va bene. Eh, l'ATST non vale niente contro il camminatore. Per un po' dovranno farne a meno. Bene. Signori, distruggiavo tutto. Questo affare è fatto apposta per la terrazione. Dobbiamo strategare i guerriglieri. Bene, stiamo facendo un po' di casino. Manca poco. Non stiamo fatto. Cos'è che mi sta colpendo? Ancora. Qui ho distrutto tutto. Ma cosa c'è sopra noi? Oh, porca miseria, ragazzi. Questo mi era sfuggito. Ok, togliamo in mezzo a quest'affare. Perfetto così. Ci viene addosso. Ma no! Per fare qualcosa. Chieniti! Streciti forte, PD! Sì, sto bene. E tu? No, non lo rifaremo. Hai distrutto un camminatore nuovo di Zeke. Come ti chiami? Cal Kestis. So, Guerrera. Che ci fai su Kashyyyk? Cerco una persona. Tu che ci fai qui? Sono qui con i miei compagni per sabotare i rifornimenti imperiali. Eh! Allora, chi è che stai cercando? Un capo tribù Wookiee di nome Tarful. È impossibile trovare Tarful. Non è un caso che sia sfuggito all'impero così a lungo. È un guerrigliero? Lui è il guerrigliero. Un simbolo della resistenza Wookiee che attacca l'impero dalle terre buie. Sir, Gris, lui è So. Come va? Perché cerchi Tarful? Faccende da Jedi. I Jedi sono estinti. Non tutti. L'hai rubata a un cadavere? L'ho ricevuta dal mio maestro. Questa piattaforma serve una raffineria imperiale in cui lavorano schiavi Wookiee. A quanto pare, fra gli schiavi ci sono anche dei guerriglieri. Devo aiutarli. Forse sanno come contattare Tarful. Sì, è possibile. Un minuto, aspetta, aspetta un attimo. La Mantis è un gioiello, una splendida nave con un pilota eccellente, ma non è fatta per il supporto ravvicinato. Noi staremo qui a monitorare le trasmissioni imperiali. Forse intercetteremo delle richieste d'aiuto. Bene, sono grato. Vado in ova scoperta con i miei uomini a preparare l'attacco. Raggiungici appena puoi. Andiamo, andiamo! Voi state bene? Anch'io sono felice di vederti. Questo posto è una discarica. Il piano ha funzionato. E adesso vuoi seguire Su? Che ne pensi del piano di Su? È una battaglia persa. Dubito sia qui solo per liberare i uchi. Mi pare affidabile. Può anche darsi. Ma qui c'è in ballo molto di più. E ricorda che l'impero gioca sporco. Guardati le spalle in quella raffineria. Grazie. Lo terrò a mente. Ok ragazzi. A quanto pare non è un personaggio molto gradito da Sir, questo guerrigliero. Perciò non so se fidarmi o meno. Dove vai, droide? Oh, il droide Gonk. Questo droide, signori, è caratteristico di Star Wars. Che hai trovato? È fantastico rivederlo. Allora ragazzi, vediamo dove dobbiamo andare adesso. Qui possiamo fare qualcosa. Che cos'è? Non si passa. A quanto pare devo trovare un altro modo. Posizione contrassegnata. Andiamo un po'. Controlliamo quel banco. Forse c'è qualcosa. Ok. Andiamo a controllare. Che cos'è? Oh! Ora ci mancano questi cazzo di rani giganti. che cos'è? Ok. Oh! Oh! ok ce ne siamo liberati quanta corrente puoi scaricare con il trasformatore manderà in corto la tecnologia imperiale sovraccarico ora bd1 può accendere e spegnere i macchinari bene siamo tornati indietro proviamo ottimo ha funzionato perfetto ora possiamo sovraccaricare anche quella zona e vediamo cosa succede qui mi serve aiuto perfetto il droide ci ha dato la possibilità di poter utilizzare la nostra particolare camminata su pareti pure le vespe ci stanno qua non mi piace quel pungiglione fluorescente per l'appunto dove sei non ti vedo e che cosa era quella risata mi fido ancora di meno di quel tizio ora che ha fatto quella risata sinceramente più avanti c'è una raffineria di linfa imperiale che cosa se ne fa l'impero della linfa niente di buono raffinano la linfa per estrarne un composto e si affrettano ad aumentare la produzione dobbiamo fermarli questo è il piano non conosciamo il loro obiettivo ma si sono dispersi abbiamo trovato una mappa che lo prova ecco te amico queste raffinerie sono anche campi di prigionia useremo le tagliatrici per creare un diversivo mentre tu con l'aiuto della tua spada laser liberi i wookie ci serve il loro aiuto per distruggere l'impero ricevuto fa attenzione là dentro sentito gli serve il mio aiuto andiamo amico ok ragazzi non so fino a che punto posso fidarmi di questo tizio però libereremo i wookie e dopo vedremo cosa succederà prima di tutto salviamo vediamo però cosa possiamo spendere prima nell'albero delle abilità forse ora potrei imparare il fendente fulmineo perfetto una bella mossa ok ragazzi adesso andiamo a liberare i wookie prima di tutto però dobbiamo cercare una strada salve salve ho capito puntamento non buffarlo sempre ma pure le granate hai ok ok scappa il droide nooo non volevo far male al droide però troppo potente la spinta della corte ho sbagliato stendiamolo la preciso attento ok ok questo mi sembra pericoloso ok questo avversario è decisamente molto vediamo chi è non avevo mai visto un soldato come quello devi liberare i wookie tenuti prigionieri muoviti soldato e puratore con elettrostaffa capace di contraattaccare dopo aver subito una parata non è tanto simpatico come avversario ragazzi io in mezzo a questi tubi mi ci bloccherei guardate l'agilità di tal eh bd con le otte rifiamma dalle pareti colpiamo il dito ok qui non possiamo andare bene facciamo una sorpresina eccolo come sempre ah lanciafiamme devo spegnere tutto adesso è saltato per aria ok soldato inceneritore cerca di uscire dal raggio d'azione dell'assaltatore ovviamente ha un lanciafiamme quindi non gli devi stare tanto vicino altrimenti bruci ok qui dove andiamo adesso vuoi proprio collegarti a questo affare bene una scorciatoia ecco perché volevi spostarlo tu non avevi idea che ci fosse volevi accendere la tagliatrice bene ora che siamo giunti fino a qui come sempre salviamo la partita e adesso vediamo chi c'è qui ma non si rendono conto che sono qua solo bene pure due ragni ci sono iniziamo a togliere di mezzo qualche avversario va altrimenti da qui non ne usciamo vivi ok uno dei due ragni è andato ora togliamo di mezzo anche l'altro siete forti a sparare da su sopra eh maledette ragnatele e la situazione non è tanto piacere come fa a sparare così bene ho fatto la mia parte ah cavolo non può farlo sempre tu li uccidi tutti in qualche modo siamo ancora qui me la sono vista abbastanza brutta qualche braccio del nemico non ne sono sicuro credo che il mio caso non funzioni tanto bene ho sentito il capitano stanno arrivando ci siamo noi stiamo più in alto di loro cosa è stata? un'altra tagliatrice una tagliatrice in funzione vicino alle celle supporto immediato capi? tracciando tutto quanto sentito? questa storia deve finire tenetevi stretti i blaster bene ragazzi sono ancora qui non me ne sono andato ok credo che siamo abbastanza vicini alle prigioni dove sono collocati i buchi magari devo azzeccare la tempistica sei ancora vivo? per ora sono quasi alla prigione bene nel pianeta impazzano richieste di rinforze imperiali se non raggiungete i prigionieri ce la faremo te lo prometto ragazzi questo video uscirà abbastanza lungo mi rendo conto che non è semplice guardare un video di un'ora spero che riuscirete a guardarlo tutto il Jedi sarà qui a breve diciamo che ho voluto allungare un po' di più questo gameplay perché per l'appunto è tuttato mi troppo non potevamo fare più nulla eravamo arrivati siamo dovuti per forza venire qui su cascitto non avevamo scelto oh ma quanto sei forte e quindi ecco spero che vi piaccia che possiate apprezzare questo video perché comunque è pieno di azione è particolarmente interessante e in questo periodo che purtroppo stiamo tutti quanti dentro casa mi auguro possa intrattenervi mi raccomando restate in casa e auguriamoci che tutto questo possa finire al più presto veramente quello fragile sei tu ok ragazzi possiamo andare avanti qui serve energia vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e voglio anche ricordarvi di lasciare un commento sotto ai miei video perché come ho detto nei video precedenti questi ultimi sono l'unica maniera per tenerci in costante comunicazione non abbiamo altro modo ehi siamo qui per liberarti non sei solo non sono ammesso e vivi non sono ammesso e vivi non ho venito individuato te ne vendierai mostra inaspettata vedi uno stimo presto aiuto allora ragazzi non l'ho voluto ammettere come boss fight ovviamente perché questo droide è tutto tranne che un boss si felice di aiutare pronti a combattere gli imperiali aiutiamo questi vochi a tornare a combattere aiutiamo questi vochi a tornare a combattere ottimo lavoro perfetto allora proseguiamo di qua ragazzi quando non serve mettere una boss fight non serve in fondo anche perché non credo che quel droide fosse capace di mettermi in difficoltà comunque non è plausibile chiamarla boss fight insomma comunque non ci diversiamo oltre e proseguiamo bene ora vediamo un pochettino dove possiamo andare andiamo qui c'è un ascensore e mi di uno ok vediamo dove siamo arrivati oh bene allora cosa hai scovato nuova Elsa per spada laser ottenuta ok ora vediamo di andare oltre questa porta che però è chiusa quindi dove diavolo andiamo siamo bloccati qui qui serve energia ok vediamo un pochettino penso di aver capito dove dobbiamo andare appunto c'è una finestrella vediamo prima di tutto però dobbiamo passare di qua altrimenti non salteremo mai abbastanza in là ci siamo ti ringrazio alle prigioni senza i Wookiee non possiamo farcela presto hanno ricevuto rinforzi via 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 si muove siamo in trappola dobbiamo liberarli respingeteli occhio a non essere il prossimo eccone un altro di questi benedetti droidi prendeteli sì dovete sparare avvero un aggressore ok non è così semplice eliminare questi stormtroopers qualcuno che collabori quando vengono aiutati da questi droidi vediamo te ne pentirai te ne pentirai di venire pulpa natti preciso preciso ci sono perfetto abbiamo liberato i buchi dalle loro prigioni ora possiamo proseguire ragazzi abbiamo fatto questo obiettivo perciò ora tecnicamente dovremmo tornare alla mantis a meno che non ci verranno dati ulteriori obiettivi qui la porta adesso è aperta e se ci fate caso ragazzi ci troviamo nella zona in cui siamo scesi prima con l'ascensore e non potevamo proseguire ora che abbiamo sbloccato questa scorciatoia possiamo finalmente andare avanti un'altra tagliatrice un'altra tagliatrice ma non credo che possiamo passare qui dove si va allora anche se però forse è qui ecco beh difficile poter passare attraverso quella zona bene bene siamo sul campo di battaglia dobbiamo liberarci tutti questi imperiali carica carica dovete cadere ok è rimasto solo questo ammasso di ferraglia bene campo libero Abbiamo un altro a TST di cui occuparci. Eh, questa volta conosco le tue mosse, caro. Ah, sei riuscito a buttare le granate molto vicino ai tuoi piedi. Va bene. Eh, non mi freghi più in quella maniera. Ottimo. E stavolta sei spacciato. Addio. Ascoltate! Questi sono stati anni molto duri. Abbiamo perso compagni, amici, familiari per via dell'impero. tempi oscuri. Eppure il fuoco è ancora vivo. la speranza è ancora viva. E i Jedi non sono ancora estinti. Noi non è stato ancora conquistato. per la causa. Per la causa! l'offerta è sempre valida. in contatto. Per la causa. l'offerta è sempre valida. 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 l'afferta è sempre valida. L'offerta è sempre valida.